Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per un altro veicolo fermo tra Ginestra Fiorentina e Scandicci e rallentamenti fino a Firenze Scandicci. Code in uscita a Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Per la viabilità cittadina a Firenze torna Pitti Immagine alla Fortezza d'Abbasso. Tutti i provvedimenti alla viabilità sono disponibili sui nostri canali social. Nuoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!